... Ancora disagi oggi per i pendolari che utilizzano il treno per i loro spostamenti in Liguria. Un guasto tecnico ha provocato infatti ritarde nella tratta Savona-La Spezia. Sentiamo. Nuovi disagi oggi per i pendolari che utilizzano il treno per i loro spostamenti in Liguria. A causa infatti dell'ennesimo guasto tecnico si sono verificati ritardi fino a 40 minuti per diversi treni regionali sulla linea Savona-La Spezia. Migliaia di pendolari e turisti infuriati anche per le mancate coincidenze con altri treni ed in molti casi con aeree in partenza dall'aeroporto di Genova. Il guasto si è verificato di primo mattino ad Albenga, riferito a Trenitalia, per causa in corso di accertamento ed ha avuto ricadute sulla linea per diverse ore. I treni che fanno la spola lungo le due riviere hanno accumulato ritardi che non sono stati recuperati. Sempre la Trenitalia ha fatto sapere che sono state date tempestive informazioni alle associazioni dei pendolari già alle 7 di stamani, ma erano comunque centinaia nelle stazioni passeggeri non informati e per questo a dir poco arrabbiati. Restata anche Liguria l'attenzione sulle trattative in corso con il governo per la vicenda dei balneari legata all'applicazione della direttiva Bolkesten. L'assessore regionale Marco Scaiola partecipa oggi e domani a Balneari, a fiera di settori a Marina di Carrara con le associazioni di categoria. L'assessore scelta di servizio. Scaiola partecipa anche all'Assemblea nazionale CNA convocata per discutere di legittimo affidamento e del periodo transitorio di 30 anni per garantire continuità aziendale agli attuali imprese. Successivamente domani alle 10.30 sempre nella sede di Balneari a Scaiola parteciperà all'incontro organizzato dai rappresentanti dei sindacati dei balneari FIBA Confesercenti, Oasi Confartigianato e Sib Confcommercio, sempre sul tema della legge delega e della riforma del sistema balneare italiano. Nel pomeriggio l'assessore Scaiola prenderà parte anche al convegno organizzato da Donne d'Amare sull'abolizione del diritto di assistenza e del rinnovo automatico. Dopo l'Assemblea nazionale tenutasi ieri a Roma, il Partito Democratico sembra sempre più destinato alla scissione. Tra le ipotesi avanzate è anche quella di una candidatura alla leadership del ministro Ligure Andrea Orlando, che sembra però assai poco probabile. Non mi pare serva mettere altri candidati alla segreteria in lizza, se la mia candidatura impedisse la scissione sarei già candidato. È quanto affermato dal Ligure Andrea Orlando, ministro della giustizia, dopo che nell'Assemblea del PD di ieri a Roma si era profilata anche l'ipotesi di una sua candidatura alla leadership. Sempre secondo Orlando qualunque problema abbia il Partito Democratico, l'idea che lo si possa risolvere con la scissione è sbagliata, in quanto apre un fronte che consente alla destra di rafforzarsi. Il problema della scissione del PD, che appare ormai alle porte, riguarda sicuramente il partito a livello nazionale, ma ancora di più quello Ligure che si appresta la campagna elettorale per le elezioni amministrative che dovranno portare a Palazzo Tursi il nuovo sindaco di Genova. Se era infatti difficile trovare un accordo con il partito, comunque già diviso al suo interno, con una spaccatura ufficiale e a tutti gli effetti rischia di diventare impossibile. Non a caso il segretario del PD genovese Alessandro Terrile ritiene prioritario evitare la scissione. Si terrà mercoledì la prima udienza sulla causa civile della famiglia di Sergio Salvagno contro l'americano William McKinnis, l'uomo che alle vele d'epoca del 2014 sparò il razzo che ferì gravemente Salvagno, in particolare in un servizio. Si terrà mercoledì la prima udienza sulla causa civile della famiglia di Sergio Salvagno contro l'americano William McKinnis, l'uomo che sparò il razzo e lo ferì gravemente rendendolo inabile. L'udienza era stata rinviata dal giudice Silvano Ronzo in quanto la prima assicurazione del McKinnis, la Pantenius, non era intenzionata a pagare giustificando la non copertura del danno come atto improprio e lo stesso McKinnis aveva quindi chiamato in causa altre due assicurazioni di cui è titolare. Per questo motivo il giudice era stato costretto a rinviare la prima udienza in sede civile per permettere di acquisire gli atti e di ascoltare le motivazioni delle altre due assicurazioni chiamate in causa. Pensiamo sia arrivato il momento in cui la giustizia faccia il suo corso, sia per Sergio che ogni giorno lotta con tutte le sue forze, sia per tutta la sua famiglia che in questi ultimi due anni ha fatto tanti sacrifici per stargli vicino. Ci auguriamo che questa vicenda tocchi la sensibilità dell'opinione pubblica, dice il legale della famiglia Salvagno Anna Maria Cuzzucrea. La difesa di Salvagno ha chiesto al giudice una provvisionale del 50% per le spese mediche a Sergio, oltre ai danni quantificati dai periti. Per quanto concerne invece la sentenza penale un anno e due mesi di reclusione al McInnes e il pagamento di 400 mila euro alla famiglia Salvagno, gli avvocati del McInnes sono ricorsi in appello. Anche ad Imperia durante questa settimana è in sciopero la magistratura onoraria con pesante ripercussioni nelle aule giudiziarie. La categoria si sente sfruttata e mal retribuita. Sono sempre più numerosi gli avvocati o i docenti universitari di diritto impegnati nei tribunali, compreso quello di Imperia come giudici onorari. Questa settimana questo settore della magistratura ha deciso di scioperare per attirare l'attenzione sulle condizioni del comparto. I giudici onorari lamentano infatti la propria condizione, sottolineando di essere senza previdenza, senza ferie né maternità e sottopagati. I magistrati onorari chiedono di non essere considerati alla stregua di braccianti della giustizia e che il governo riconosca a loro la continuità del servizio, piene tutele previdenziali ed assistenziali, uno stipendio congruo e commisurata la funzione svolta. Potrebbe essere operativa già dalla prossima estate la ciclabile con passarella sul Nervia da Ventimiglia a Camporosso e da qui a Dolciacqua. Lo ha evidenziato con soddisfazione il sindaco della città di confine Enrico Ioculano. Signor sindaco, un progetto importante approvato che va avanti di questa passarella ciclopedonale sul Nervia, un collegamento non solo che riguarda Ventimiglia ma anche Camporosso e il collegamento verticale fino verso Dolciacqua, è così? Sì, è così. Sono dei fondi FAS del 2009 che abbiamo recuperato grazie alla vecchia giunta regionale e anche all'attuale. È un lavoro da 5 milioni di euro, un'opera importantissima di collegamento ciclopedonale e riqualificazione dell'oasi naturale. Quindi siamo davvero soddisfatti, è stato un bel lavoro con il comune di Camporosso. Finalmente sono iniziati i lavori. Quanto tempo ci vorrà per vedere quest'opera completata? Noi pensiamo che alla fine di quest'estate potremo già percorrere il tratto in bicicletta. Purtroppo per evidenti motivi di natura normativa non si è potuto allargare la passarella e pensare a un collegamento carrabile, proprio perché la normativa lo impedisce e perché il pronunciamento di alcuni uffici era contrario, altrimenti sarebbe fatto. Comunque sarà un ottimo spunto turistico, sicuramente un'offerta che si va ad aggiungere a quella del territorio. Evidentemente sì, secondo me è anche qualcosa di più perché è un modo di ragionare in termini totalmente diversi. La viabilità è uno dei problemi che abbiamo. Oggi con quest'opera sarà molto semplice raggiungere da Ventimiglia Dolceacqua piuttosto che Bordighera o Vallecresa e Camporosso nel giro di pochi minuti in bicicletta senza avere... sfruttando anche i nostri 9-10 mesi l'anno di bel tempo. Quindi è un modo diverso di pensare alla città. Insomma anche i residenti potrebbero adottarsi delle due ruote a pedali, via. Senz'altro sì. Un russo di 53 anni, Mikhail Nechrik, è stato arrestato a Ventimiglia proveniente dal Principato di Monaco, dai militari dell'esercito e dalla polizia di frontiera. Soldati e poliziotti impegnati in normali controlli congiunti al confine hanno infatti scoperto che l'uomo era ricercato a livello internazionale per omicidio e condannato all'ergastolo. I fatti risalgono nel 2014 quando il cittadino russo aveva organizzato un'associazione criminale ed eliminato un suo connazionale per soltragli un milione di rubri. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Sanremo. I carabinieri di Imperia hanno arrestato un magrebino di 27 anni, cotto in flagranza di spaccio e di stupefacenti. Il ragazzo è stato sorpreso in un appartamento che si affaccia su Piazza Duomo a Porto Maurizio e è trovato in possesso di sette dosi di cocaina già confezionata e pronta per essere venduta. 530 euro in contanti è tutto necessario per la pesatura e il confezionamento delle dosi. È stato condannato dal Tribunale di Imperia ad un anno e quattro mesi di reclusione e 800.000 euro di multa con il ritro del patteggiamento. Il ventenne tunisino che sabato intorno alla mezzanotte ha rubato la borsetta ad una ragazza di 19 anni che in compagnia di una quindicina di amici stava festeggiando un compleanno in piazza Borea Dolmo nel cuore di Sanremo. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario del locale che così ha dato l'allarme. Il ladro è stato inseguito e bloccato da tre amici della giovane uno dei quali è rimasto leggermente ferito ad una mano. Facciamo una breve pausa per la seconda parte del giornale. A tra poco. domani torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Sanremo. Diamo diverse le pratiche richieste dalla minoranza in particolare nello servizio. Torna a riunirsi domani 21 febbraio con inizio dei lavori alle 19.30 il Consiglio Comunale di Sanremo. La riunione è richiesta dalle minoranze consigliari. Tra i firmatari ci sono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. La seduta si aprirà con l'evasione delle interpellanze degli ordini del giorno presentati da due consiglieri di opposizione Luca Lombardi e Gianni Berrino e tratteranno la problematica del mancato riscaldamento delle aree frequentate dalle società sportive di ginnastica artistica e patinaggio all'interno del mercato dei fiori, cioè quelle aree esterne alla zona utilizzata dalle società di basket e pallavolo e sulle condizioni igieniche in cui verte l'area frequentata dalle giovani ginnaste. Il secondo ordine del giorno presentato tratterà la problematica relativa alla sospensione dell'efficacia della delibera di giunta comunale relativa alla sospensione del servizio degli ausiliari che svolgevano funzioni di controllo all'interno del Casino di Sanremo. Inoltre sarà chiesto conto della decisione dell'amministrazione che con delibera di giunta comunale prevederà tagli al servizio comunale degli asili nido con la soppressione di diversi servizi, l'accorpamento di altri e sugli impatti organizzativi anche in termini di personale su questo fondamentale servizio per le famiglie sanremesi. Infine seguirà la discussione con i lavori di consiglio, tra le pratiche quella relativa al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da parte di Amaia Energia, sulle modalità di gestione, i costi e i reali risultati del nuovo sistema e sulle reali percentuali di raccolta differenziata raggiunte. In merito alla votazione riguardante la dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Colli che si è svolta presso la Prefettura di Imperia, Francesca Antonelli per Sanremo Attiva precisa che dalla documentazione pervenuta dall'assessore all'ambiente del Comune di Sanremo, Eugenio Innocita, traspare che molte delle osservazioni critiche a suo tempo espresse da Sanremo Attiva sembrano essere state fatte proprie dall'amministrazione che ha formalizzato delle richieste di modifica al piano preliminare. Il Comitato Cittadino ha comunque lamentato la mancata discussione della pratica in Consiglio Comunale. Voltiamo pagina, si è disputata nella zona del Bosco delle Navette la gara di sci alpinismo Clodgen-Aquarone a causa dei danni alluvionali per la prima volta l'evento si è lasciato appunto Mone, si sentiamo. Si è disputata ieri dopo due edizioni mancate a causa della scarsità di neve la venticinquesima edizione della Coppa Clodgen-Aquarone, gara di sci alpinismo a squadra organizzata dal club alpino italiano Sezione di Imperia, con la collaborazione dello Sciclub Imperia. Tradizionalmente organizzata nel comprensorio sciistico di Monesi sin dal 1929, ha trovato quest'anno nuova collocazione nella splendida cornice del Bosco delle Navette e le cime principali che lo racchiudono nei pressi di Upega. La gara di ski alp, fortemente voluta e motivo di orgoglio per la locale sezione del CAI, ha raccolto i complimenti di 34 partecipanti provenienti dalla Val d'Aosta e dal vicino Piemonte. Due i percorsi, con sviluppo differente a seconda della categoria dei concorrenti, per uno sviluppo totale di 14 chilometri e circa 1700 metri di dislivello. Il tutto vissuto in una giornata di splendido sole, con un'ottima neve. A chiudere la gara al primo posto, la squadra valdostana, formata da Collè, Barazzuol, ASD, Gressonei. E passiamo ora all'angolo di Daniele e la Corte. La riflessione di oggi di Daniele è dedicata al mondo della politica e al nepotismo. Vediamo. Il mondo della politica, sempre più spesso, ci lascia allibiti. Si cerca a tutti i costi di scandalizzare, soprattutto i semplici, quelli che non sanno. La nostra Repubblica, fondata sul lavoro, frutto della resistenza, a volte cela situazioni veramente imbarazzanti che la fanno assomigliare troppo a una nuova forma di monarchia dinastica. Tanti politici passano il testimonio ai figli o ai nipoti, inserendoli nei posti di potere, in modo tale da non abbandonare mai la stanza dei bottoni. È vero, ci sono casi che, pur confermando la regola, sventiscono un certo modo di pensare, perché magari il nipote, più che capace di camminare con le proprie gambe, se ne infischia dello zio decisa a prendersi tutto, lasciando il mentore a bocca asciutta. È la storia di molti ministri, o meglio ex, che cercano di far largo nelle maglie della politica ai loro cari. Non c'è distinzione di credo, perché il nepotismo in Italia è sempre forte, un po' come negli Stati Uniti, dove Bush ha lasciato il posto al figlio di nuovo Bush, dove Bill Clinton avrebbe tanto desiderato vedere la moglie, sempre Clinton, entrare alla Casa Bianca. E in casa nostra? Poche sono le cose che cambiano. Nel Medioevo i papi, o qualsiasi persona del clero, praticava il nepotismo da nepos, nipote, e dicevano che i loro figli proibiti, se si era un uomo di chiesa, in realtà erano dei nipoti. Ad esempio, se un dirigente politico assume o promuove un parente, piuttosto che un'estranea, la famiglia più qualificato, quel dirigente politico sarà accusato di nepotismo. Alcuni biologi hanno suggerito che la tendenza al nepotismo sarebbe istintiva, una forma, a loro dire, di selezione parentale. Ma il nepotismo in campo politico è un pericolo per la democrazia, perché determina una concentrazione di poteri e, conseguentemente, capitali. Nelle mani delle stesse famiglie, perché ostacola il necessario ricambio nella classe dirigente ed un accesso di universale e meriticoratico all'istituzione e alla pubblica amministrazione, che vengono basate su un rapporto figiucciario anziché impersonale, tipico invece di uno Stato moderno. Ma l'ultimo caso di nipotismo ci arriva dalla ricca Cuneo, dove già un ministro è figlio di un ministro e parliamo di Costa, e dove la destra continua a cercare di alzare sempre più in alto il vessillo del nepotismo. Ultima in ordine di tempo è Daniela Santachè, il cui vero cognome è il piemontesissimo Garnero. Vuole far scendere in campo il fratello Massimo per cercare di fargli conquistare la poltrona di sindaco. Tutto è in gioco e il nepotismo domina. Sabato è in programma al Carnevale di Ineia in piazza San Giovanni ad Imperia. L'iniziativa organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni e Onegliesi in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista avrà iniziato alle 14.30. Il come ogni anno radunerà centinaia di piccole mascherine per un pomeriggio di giochi, musica e divertimento. Alle 15 inizia alla festa con la baby dance e un lancio di palloni giganti, poi animazione con giocoliere e trampolieri, premi e caramelli. Ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Venti, cantieri sull'Otto Fiori e previsioni del tempo. Venti, cantieri sull'Otto Fiori e previsioni del tempo. Venti, cantieri sull'Otto Fiori e previsioni del tempo. al traffico sul tratto della 10 Savonna con fila di Stato. In direzione Francia, careggiata nord, tra finale Ligure e Pietraligure, careggiata chiusa, con doppio senso sulla careggiata opposta per il rifacimento della pavimentazione dal 20 al 22 febbraio. In direzione Genova, careggiata sud, tra Sanremo ed Arma di Taggia, careggiata chiusa, con doppio senso sulla careggiata opposta per l'adeguamento sismico dei viadotti San Romolo e Riofoce Taggia dal 20 al 26 febbraio. Tra Arma di Taggia ed Imperio Ovest, careggiata chiusa, con doppio senso sulla careggiata opposta per l'adeguamento sismico del viadotto Taggia dal 20 al 26 febbraio. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, chiusura della corsia di sorpasso per installazione di barriere di sicurezza dal 20 al 26 febbraio. E con il quadro meteo elaborato da Arpa al meteo Liguria vediamo le previsioni per domani, martedì 21 febbraio. Il cielo sarà nuvoloso con possibili deboli pioggia al mattino su Genovese e Savonese. Nubi alternate schiarite altrove. Omedità sui valori medio-alti, venti calmi o deboli variabili sull'estremo levante, molderati dai quadranti meridionali altrove. Il mare sarà mosso a Ponente, poco mosso a Levante. Dopodomani, mercoledì 22 febbraio, il cielo sarà nuvoloso con possibili deboli locali piogge sul centro e sul Ponente, più probabili al mattino. Nubi alternate schiarite sulle restanti zone. Omedità sui valori alti, venti moderati da sud o sud-est sull'interno del centro Ponente, deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali altrove. Il mare sarà poco o localmente mosso al mattino a Ponente, poco mosso a Levante. Al pomeriggio poco mosso su tutti i settori. E noi ci vediamo qui, l'appuntamento alle prossime edizioni, potete seguirci sul nostro sito imperativo.it. Grazie dell'ascolto e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.